è arrivata la nostra nuova baby sitter ma è il Grinch! ma no la baby sitter no è il Grinch! ma via! ma io devo andare a lavorare, mi raccomando ciao ciao ti raccomando quei bambini ciao ciao finché ti salvi corre finché ti salvi bravi bambini siete state brave quest'anno certo ma Natale non arriverà adesso siete in trappolo a piccoli monelle chiudo 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 bene voi dobbiamo salvare il Natale dobbiamo trovare un'uscita non la troveremo forse è lì non c'è uscita non c'è uscita no c'è uscita Ho 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 ho. dobbiamo salvare il natale dobbiamo trovare l'uscita ah piccoli manelli avete pensato di scappare vedo dov'è per tutto no ci ha chiuso dentro 3 2 1 chiudi sar gli è qua chiudere государ sindi ci ha scaduto No! No, c'è processo la cucina, davvero, via, 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 salvo, torno ancora, no, ce l'abbiamo fatta a salvare un'altra volta il Natale, e anche i biscotti